Minacciano di continuare la protesta fino a quando non si troverà una soluzione alla crisi i produttori sardi di latte che da giorni sono in agitazione per denunciare il basso prezzo al litro. Un prezzo che secondo i produttori è di fatto imposto dalle industrie della trasformazione e che rischia di gettare sull'astrico le oltre 15.000 aziende della regione. Ne abbiamo parlato con Maria Barca, portavoce del Movimento dei Pastori Sardi. Il latte ha purtroppo raggiunto uno prezzo ridicolo che è di appena 60 centesimi neanche per ogni litro latte. Ovviamente questo prezzo non riesce a coprire neanche i costi di produzione, quindi come dicono loro si alzano la mattina per produrre debiti. Il 60% dei 3 milioni di quintali di latte prodotti ogni anno viene acquistato dai produttori di pecorino romano, i quali potendo accedere a materie prime provenienti anche da altri paesi tengono bassi i costi alla stalla. Noi abbiamo uno consorzio di tutela del pecorino romano. Questo consorzio qua non ha mai funzionato, non ha tutelato proprio niente, anzi ha fatto un vero e proprio disastro. Per noi questo è un problema europeo, è un problema del governo italiano. La richiesta ha ad oggi un euro almeno il costo del latte più IVA, del prezzo del litro latte più IVA e certamente dei tavoli tecnici sia nazionali sia europei assolutamente risolutivi per una definizione definitiva dell'avvertenza. Grazie.